E non c'è nessuno che mi può cambiare Una serata di musica e danza per passare insieme, adulti e bambini, la notte di Ferragosto in città. È una piazza Kennedy in festa, quella che hanno trovato ieri sera i cittadini di Bellusco in un appuntamento organizzato anche quest'anno dalla Proloco per celebrare in compagnia il 15 agosto offrendo a tutti i presenti pezzi di anguria da gustarsi in piazza un'occasione per trovare sollievo dal caldo estivo in compagnia. Questa è stata studiata appunto per i cittadini belluschesi che non sono in vacanza e di conseguenza un intrattenimento, una serata insieme fa piacere anche se fa molto caldo noi cerchiamo di rinfrescarla. Ad accendere la serata il concerto dell'orchestra Sonia Migoni è in alta quota che tra brani storici e waltzer ha guidato i balli del pubblico. So per tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà Inserito tra gli appuntamenti della rassegna Bellusco d'estate il ferragosto in piazza della Proloco si è confermato occasione di convivialità per chi rimane in città proprio nei giorni segnati dal picco dell'esodo dei vacanzieri. Più o meno il numero è costante. Dirò che quest'estate ci sono molte più famiglie, molti più bambini, molto probabilmente hanno fatto le vacanze prima.